Oggi è molto importante il risultato positivo, erano importanti tre punti in palio perché quest'anno bisogna creare una mentalità diversa dall'anno scorso, per adesso stiamo lavorando molto bene, il mister ci sta inculcando dei meccanismi che stiamo portando a termine. Sappiamo che è un campionato lungo, siamo solo alla quinta giornata, però siamo contenti ma non bisogna mollare neanche un centimetro. Sì, in effetti siamo partiti molto bene, era proprio questo che ci ha richiesto il mister, in settimana abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita, però sapevamo che davanti avevamo una squadra molto ben organizzata, che giocava bene la palla, ce l'abbiamo messa tutta anche in fase difensiva, non concedere nulla all'avversario, sappiamo che davanti abbiamo giocatori di qualità che possono mettere in difficoltà chiunque. Sono molto bene, ho recuperato bene, sono molto soddisfatto per questo inizio di campionato e bene, sono a disposizione del mister e niente, sono contento. Cambiate il mondo. Noi bisogna avere l'ambizione alta e poi è chiaro che un campionato, sappiamo che la Serie B è un campionato strano, però se ce la mettiamo tutta ogni gara non sappiamo nemmeno dove possiamo arrivare. Grazie.